Un uomo, nel pieno centro della piazza di Fermo, ha dato un cefone ad un bimbo di 4 anni La cosa inspiegabile è che non lo conosceva, né lo aveva mai visto. Il piccolo stava giocando con la tata, e quest'ultima lo ha sgridato. Ottenendo una risposta poco carina da parte del bimbo, ma decidendo di non dargli importanza La risposta è stata udita anche dall'uomo protagonista del caso, che ha detto alla tata lo fa lei o lo faccio io La donna per tutta risposta ha chiesto all'uomo di cosa parlasse, e lui senza pensarci due volte ha dato un sonoro cefone al bimbo Che è stato condotto al pronto soccorso Due giorni di prognosi? I genitori hanno annunciato una denuncia nei confronti dell'ignoto uomo